Sono qui oggi a presentare la mostra in anteprima, la mostra Raffaello e il suo sguardo, una mostra importante che ha ricevuto un significativo riconoscimento da parte del Comitato Nazionale per le celebrazioni della morte di Raffaello, 100 anni, 500 anni dalla morte di Raffaello. La mostra è una mostra interessante sicuramente e si avvale di importanti contributi perché per questa mostra abbiamo restaurato delle opere a partire dallo standardo di Città di Castello, opera giovanile di Raffaello che è stato restaurato dall'Istituto Centrale del Restauro che ha rivisitato un intervento precedentemente fatto nel 2003. L'ha rivisitato in termini di miglioramento della presentazione estetica di quest'opera. Vedrete che ci sono molte delle lacune che erano rimaste a vista che invece sono state oggi reintegrate secondo un sapiente lavoro condotto dai restauratori dell'Istituto Centrale del Restauro. Abbiamo restaurato, il Comune ha finanziato il restauro anche dei frammenti della pala di San Nicola da Tolentino, frammenti che si trovano distribuiti tra due importanti collezioni, quella di Capodimonte e quella di Brescia. Bene, i due frammenti di Capodimonte sono stati restaurati con un finanziamento proprio concesso a seguito del finanziamento della mostra ma dedicato a questo intervento. Dunque questa mostra si qualifica per i risultati significativi e duraturi che ha determinato perché ogni mostra se consente di migliorare la tutela delle opere che sono esposte e quindi poterle meglio valorizzare per la loro fruizione ha raggiunto veramente un ottimo risultato dal punto di vista scientifico e dal punto di vista conservativo. Questa mostra è un evento all'interno delle celebrazioni raffaellesche, è una mostra finanziata dal Comitato Nazionale e si pone come obiettivo di documentare l'esordio del giovanissimo pittore a Città di Castello. Pochi sanno che lì il pittore ha lasciato ben quattro opere. Di queste una è il Gonfalone della Santissima Trinità, unica opera mobile rimasta in Umbria e conservata nella Pignacoteca Comunale e ora restaurata secondo una vera e propria svolta metodologica dallo stesso Istituto Centrale del Restauro che l'aveva sempre restaurato. Ora è interamente godibile con una veste del tutto rinnovata. Lo stesso anche l'incoronazione di San Nicola da Tolentino, la prima opera documentata a Raffaello del 1500 dispersa in vari frammenti, in vari musei italiani, se ne ripropongono tre frammenti importanti che vengono da Napoli e da Brescia e in più godrà di una ricostruzione digitale complessiva che ne studia l'assetto architettonico e anche la resa pittorica. L'ultima sala sarà dedicata allo sposalizio, documentato attraverso copie sia dipinte che incise e in più il maestro Stefano Lazzari produrrà una sua copia artistica dello stesso sposalizio che vedrà all'inizio, proprio il giorno dell'inaugurazione della mostra, verrà dipinta sotto gli occhi degli spettatori giorno per giorno documentando le antiche tecniche esecutive di una bottega del Rinascimento e verrà conclusa e donata alla cittadinanza e alla Pinacoteca Tifernate il giorno della chiusura della mostra.